Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video, clicca su Mi Piace e iscriviti al nostro canale. 10 rimedi casalinghi per perdere il grasso addominale senza esercizi Il grasso addominale è un problema che molti vorrebbero evitare. Se desideri una pancia piatta ma non hai tempo per esercitarti, abbiamo buone notizie per te. Abbiamo scoperto 10 rimedi casalinghi che ti aiuteranno a perdere il grasso addominale senza la necessità di allenamenti estenuanti. Quindi, se vuoi perdere peso senza faticare troppo, continua a leggere. 1. Bevanda pancia piatta con acqua e limone Una bevanda semplice ma efficace per ottenere una pancia piatta è l'acqua con aggiunta di limone. L'acqua è essenziale per la salute, ma con l'aggiunta di limone riceverai anche vitamina C, fibre e acido citrico. Il limone accelera il processo di combustione dei grassi e riduce l'appetito, contribuendo alla perdita di peso. 2. Scegli il succo di mirtillo al posto delle bevande gassate Il succo di mirtillo rosso è una bevanda rinfrescante e salutare. È ricco di vitamine, minerali e antiossidanti. Evita le versioni con aggiunta di zucchero e opta per il succo naturale per godere di tutti i benefici. 3. Aggiungi semi di chia alla tua dieta La dieta e i semi di chia sono un'ottima fonte di antiossidanti, fibre, proteine e acidi grassi omega 3. Aggiungili ai tuoi pasti, soprattutto alla colazione, per sentirsi sazi più a lungo e favorire la perdita di peso. 4. Graviva la tua dieta con il tè allo zenzero Il tè allo zenzero è un potente disintossicante che accelera il metabolismo e aiuta a bruciare calorie più velocemente. Puoi preparare una tazza utilizzando la radice di zenzero, succo di limone e miele. 5. Sorseggia il tè verde Per perdere il grasso addominale Il tè verde contiene catechine, un tipo di antiossidanti che contribuiscono a bruciare il grasso e migliorare il metabolismo. Bevi una tazza di tè verde ogni giorno per ottenere i suoi benefici. 6. Sperimenta il tè di dente di leone Il tè di dente di leone è una bevanda sempre più popolare grazie alle sue proprietà medicinali e alla capacità di migliorare il processo digestivo e contribuire alla perdita di peso. 7. Non sottovalutare il potere del peperoncino di Cayenna Il peperoncino di Cayenna accelera il metabolismo e brucia calorie più velocemente. Aggiungilo ai tuoi pasti e senti l'effetto brucia grassi. 8. Aggiungi olio di cocco alla tua dieta L'olio di cocco è un supereroe quando si tratta di bruciare grassi. Grazie alla sua composizione unica di acidi grassi, aiuta a perdere il grasso addominale e favorisce la perdita di peso anche in altre zone del corpo. 9. Usa la cannella per controllare l'appetito La cannella aiuta a controllare i livelli di zucchero nel sangue e accelera il metabolismo. Aggiungila ai tuoi pasti o prepara una tazza di tè alla cannella per ottenere i suoi benefici. 10. Sfrutta il potere dell'aglio per perdere il grasso addominale L'aglio sopprime l'appetito Aumenta il metabolismo e invia segnali di sazietà al cervello. Aggiungi alcuni spicchi di aglio crudo alla tua dieta per ottenere i suoi effetti positivi. Infine, ricorda di ridurre lo stress nella tua vita, poiché lo stress può influire negativamente sulla perdita di peso. Dormi a sufficienza, evita il fumo e cerca di praticare attività che ti piacciono per ridurre lo stress. Provando questi rimedi, potrai ottenere una pancia più piatta e godere di una migliore salute generale. Non dimenticare che anche una dieta equilibrata e un po' di esercizio fisico possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di perdita di peso. Buona fortuna! Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.